salve gente bentornati in questo video vado a parlarvi delle tre profumazioni di halloween della yankee candle per questo halloween 2017 sono tre profumazioni due le conosciamo già allora una e vi metto la foto dove c'è l'etichetta che si vede meglio la foto è qui e io mi sposto qui ed è la witches brew di cui io ho una tart che appunto l'ho in 120.000 campioncini la fragranza il problema che ogni anno fanno delle etichette personalizzate per quell'anno quindi mi piace un attimo prendere le etichette sempre nuove la descrizione ufficiale dice un'esotica speziata miscela di pacciulli e vaniglia che creerà un'atmosfera meravigliosamente malvagia sì il pacciulli si sente un sacco penso che agli inizi la mettevo tra le dopo barbine come profumazioni perché comunque questo pacciulli spinge un sacco quindi se si cioè fondamentalmente si sente solo del pacciulli le note non sono citate quindi non saprei nemmeno cosa c'è oltre questo pacciulli e questa vaniglia che viene che viene nominata la vaniglia si sente veramente poco invece il pacciulli lo si sente veramente bene l'altra profumazione è la forbidden apple di cui metto la foto giustamente ed è frequente mela verde e la forbidden apple dice una seducente pozione di mela bergamotto quercia nera vaniglia noir che vi trasporterà in un luogo misterioso e proibito adesso sarà che io ho anche la granny smith come come candela però ci assomiglio un sacco questa a differenza della granny smith credo che sia più dolce la sento meno croccante è più dolce quindi allora il bergamotto dovrebbe un pochino inasprirla perché comunque un bergamotto ha un profumo più tendente all'agrume all'agrumato invece secondo me che non si sente c'è la guercia nera la vaniglia noir adesso non so cosa intendono per questa vaniglia però è una profumazione molto più dolce rispetto comunque sa di mela sanno di mela sono due profumazioni una sa di pacciulli e una sa di mela quindi se vi piace la mela questa se vi piace il pacciulli giustamente questa pacciulli o profumazioni maschili in cui c'è le pacciulli poi c'è la novità la novità quest'anno ho scelto di prenderla in pillar ci sono anche di forbidden apple e anche di come si chiama qua la witch's brew ci sono anche le giare medie però io ho scelto il pillar adesso vi faccio capire vi spiego il perché il pillar è questo la profumazione è la haunted hollow qualcosa del genere vi metto la fotina qui il pillar cos'è che c'è? ha questo tappo che ovviamente non sarà a fuoco così si vedeva questo tappo che c'è probabilmente in alto rilievo in basso rilievo non so come si cosa come si dice la faccina del tipo della zucca qualcosa del genere o così la zucca quando intagliate fatte il giaccolanter poi la cera grigia per questa profumazione ha la cera grigia e una cosa particolare è che dentro alla candela al pillar quindi negli onde dallo c'è una frase nella forbidden apple c'è una frase e nella witch's brew c'è un'altra frase la frase è una frase adesso questa qua magari ve la faccio scorrere da qualche parte tolgo la foto e faccio scorrere la frase adesso perché la si riesce un pochino aspetta no così non si riesce a vedere mentre la si riesce a leggere anche qua fuori è di uno scrittore io ci sono diventata scema per capire cosa che intendesse dire quindi chi sa l'inglese meglio di me sarà bravissimo e comunque una frase paurosa di halloween che parla di di notte di spiriti che tornano in voglia in auge e la profumazione di cui non vi sto parlando la descrizione ufficiale dice un mix di arancia sanguinella legno di cedro e cannella rossa piccante una fragranza deliziosamente oscura e udace questa è la descrizione io ci sento incenso ci sento proprio quell'odore molto funereo c'è nel senso molto da funerale ma dal momento in cui una fragranza di halloween ci sta da dio questa questa profumazione che dici so c'è come cupa proprio così con la faccia così perché comunque è una profumazione che deve far paura adesso il paciuli non fa paura la mela non fa paura questa sul serio come profumazione se la sensi se la si sentisse in giro dici bello questo ambiente cosa è successo qua ed accesa quindi io non so cosa sia questa arancia sanguinella legno di cedro cannella rossa piccante non metto in dubbio che il piccante lo sento la cannella rossa no però io sento del gran incenso io sento del gran incenso in questa candela non ho idea se ci sia oppure no dico semplicemente quello che ci sento magari un mix tra questa arancia sanguinella legno di cedro mi fanno buttare su un odore che a me ricorda l'incenso ho detto incenso è una profumazione comunque che rimane delicata un pochino che aleggia sta lì non sa nemmeno lei se c'è oppure no è una particolarità che ho notato che non so se normale è che praticamente sapete che io ho la la candle warmer lampada di cui ho fatto il video recentemente il video precedente praticamente è praticamente sotto la lampada la cera da grigia non so perché era diventata un bordeaux più o meno del colore del mio rossetto un pochino più rosso la toglievo quindi c'è un pochino questo spettro del mistero in questa candela cioè quando la toglievo poi da sotto la lampada ci puntavo la la luce normale tornava nera al colore della cera quindi non so effettivamente cosa gli sia preso sotto la candle warmer però accesa appunto quella candle warmer non è una fragranza intensa almeno io non l'ho sentita così pesante è piacevole però sta sempre lì sul chi va là non è non è prorompente come magari una witch's brew ecco per intendersi però rimane indubbiamente una fragranza buona apprezzabile soprattutto è nuova non va a richiamare altri profumi non avevo mai sentito un profumo di questo genere tutte queste cose io le ho acquistate e vi lascio il link sotto dal negozio www.lafabbricadelide.eu di teresita romeo fatemi sapere quassù in alto nel sondaggino quali fragranze di quest'anno avete provato se già le conoscete e queste cose qua scrivendomi nei commenti ma qua ditemi quale vi è piaciuta di più di profumazioni mi raccomando iscrivetevi al canale se si ritenete interessanti i miei video attivando ovviamente la campanellina per ricevere ogni notifica di video che pubblico così per essere sempre aggiornati sulle nuove sulle nuove novità e sui le mie recensioni e le mie battle tutte le rubricchette che faccio nell'info box vi lascio anche link del della paginetta facebook del profilo instagram del blog e del gruppo candle universe italian edition un gruppo pieno di appassionati di candele io i video li pubblico il lunedì il venerdì il mercoledì qua il tastino del no qua i video che vi consiglio di andare a vedere qui il tastino dell'iscrizione linee alte g e ci vediamo ciao